La maggioranza è l'operato del sindaco. Guardate, io rispetto le decisioni prese dal partito democratico, giuste e sbagliate, non resta a me un qualità di capocupo del giudicino di, come devo dire, mi manda la parola di giudicare per il sindacato sull'operato, però è sotto gli occhi di tutto, che oggi è un sindaco sfriduciato dalla sua stessa maggioranza, invito a un minuto dopo, però forse qualche minuto prima, il tuo tipo è dimostrare che veramente spesa quello che dice prima che il sindaco si deve dimettere il Presidente del Consiglio. Solo così, solo così, si può lanciare un messaggio vero, vero, che il partito democratico sta assumendo in quest'autoconsigliare. Non me lo voglio dalla parte dell'opposizione, come mai non parlano a sottolineare le divisioni del Presidente del Consiglio? Cosa dovrebbe fare dopo che il Partito Democratico, qualsuna di queste posizioni? Guarda, guarda, Enzo Cattola, sindaco di Gasolio, è sotto gli occhi di tutti che sia una persona stimata, voluta bene, e che hanno dimostrato la città di Gasolio al momento che sia sostenuta nella tua campagna elettorale. Però, Enzo, tra lo sinistro questo caso è un po' Enzo, penso che tu ne devi prendere atto e ti devi diventare. Ti devi diventare perché io non puoi bruciare sulla bocca di tutti, perché poi, passato qualche mese, non si può che si continua ancora con questa parferita, tu diventi come i tanti e tanti finish, sei partecipe di questo gioco. Allora penso che i momenti di chiarezza tra, con la tua stessa maggioranza dai avuti, concludi dai avuti, penso che se esiste ormai sei stato sfiduciato. Quindi, sindaco, non puoi più sostenere questo gioco, perché se oggi diciamo, noi dell'opposizione, che lui, che Enzo Castro non basta, nessuna del bene stimata, e vai avanti così, ancora per altri mesi, tu diventi un sindaco che sta in tutta la città. Perché io poi penso, penso che quando riguarda i miei cieli che arriveranno il Consiglio Comunale, con quanto e quattro e quattro e quattro e questi conventi preti, dove potrebbe una maggioranza forte in poesia, vuole che gli amici che gridano, si venga, si venga al Consiglio. E ti voglio far capire agli amici che gridano, perché se non basta una politica che, non vi finne l' céu, una vita intera, perché io mi piacciono il nostro... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.